Un altro ascensore multipiano funzionante, questo è quello che costruiremo oggi con meccanismi di redstone e pistoni, i saluti a fine video. Allora, alle mie spalle l'ascensore è completamente funzionale, costituito da ben 4 piani e che possono essere anche costruiti ulteriori, l'importante è seguire la logica che andremo a vedere a breve. Adesso però andiamo a testarlo, sono in modalità sopravvivenza, vengo sospinto in alto, andiamo al piano superiore, questo è il secondo, questo è il terzo e questo dovrebbe essere l'ultimo, quello verde. Ok, siamo arrivati qua sopra, ora mi avvicino sempre sulla postazione di lancio, premo questo pulsante e comincio a scendere 1, poi scendo giù 2, poi scendo giù 3 e poi questo credo sia l'ultimo piano, siamo arrivati a terra. Ovviamente possiamo salire nuovamente, poi continuiamo a salire e se vogliamo continuiamo a scendere, così, scendiamo, quindi un ascensore perfettamente funzionante. Andiamo a costruirlo insieme. Allora, qua a sinistra abbiamo il nostro ascensore al quale ho un po' coperto i meccanismi, qua invece sulla destra ho lo stesso meccanismo ma con i blocchi di calcestruzzo che ci danno un po' dei riferimenti per poterlo costruire. Sembra complesso, non lo è, incominciamo a vedere la costruzione partendo appunto dalla base di partenza. Allora, andiamo ad aprire la nostra prima cassa e ci prendiamo blocco di gelatina, pistone appiccicoso, ossidiana, calcestruzzo azzurro ma ci serve soltanto per distinguere la costruzione che andremo a fare, polvere di pietra rossa, ripetitore di pietra rossa, un pulsante di pietra nera levigata. Non dobbiamo utilizzare i pulsanti di legno, ok? Quindi pulsante di pietra va benissimo. Mattone, ok, io ho preso questo di pietra infestato ma è uguale a qualunque tipo di mattone. Allora, proviamo a replicare la stessa struttura, mettiamo per esempio, ok, questo punto come quello di partenza. Allora, facciamo un buco, un altro, in basso ci mettiamo un pistone appiccicoso rivolto verso l'alto. Sopra ci andremo a mettere la gelatina. La gelatina in questi punti, ok, bisogna metterci l'ossidiana ma prima di posizionare l'ossidiana, ok, noi dobbiamo andare a rimuovere questi blocchi sottostanti perché la gelatina altrimenti se li porterebbe in alto e non si muoverebbe. Questo blocco qui di erba invece non ci interessa. Sopra questo blocco di gelatina andiamo a mettere un qualunque tipo di blocco, ok, e poi un pulsante di pietra. A questa altezza facciamo una scaletta di 1, 2 e 3 blocchi, ok, così, e poi facciamo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, rompiamo questo blocco, portiamo la polvere di pietra rossa in basso verso il pistone appiccicoso, ripetitolo di pietra rossa, lo portiamo indietro di 4 tic, andiamo a testare e dovrebbe funzionare esattamente così. Andiamo al passo successivo. Andiamo a prendere l'altra cassa che ci serve per costruire la seconda sequenza, diciamo, per liberare la testa al nostro personaggio quando viene lanciato in alto. Ci serve calcio di struttura giallo ma soltanto per riconoscerlo, polvere di pietra rossa, torcia di pietra rossa, pistone appiccicoso, blocco di gelatina, un blocco di ossidiana, del vetro, un mattone e un pulsante di pietra. Allora, esattamente a partire da questo punto mettiamo un blocco giallo e un altro, poi blocco di vetro, poi saliamo di 2, 1, 2, 1 e 2. Questi due ovviamente non ci servono. Poi a partire da questo punto nuovamente 1, 2 e poi 1 e 2. A fianco a questo mettiamo un altro blocco, alle sue spalle un pistone appiccicoso e poi un blocco di gelatina. A questo punto torniamo in basso, a fianco a questo pulsante mettiamo la torcia di pietra rossa, portiamo il segnale fino ad alimentare il nostro pistone appiccicoso che si estende. Ora lo interrompo momentaneamente perché approfittando di questo blocco noi mettiamo anche un blocco di pistone appiccicoso rivolto verso il blocco di gelatina. Riandiamo in collegamento, il blocco si estende e a questo punto possiamo andare a mettere i blocchi di ossidiana. Mettiamone uno temporaneo qua così ci giriamo intorno, 1, 2 e 3. Questo lo possiamo distruggere, questo lo mettiamo sotto, poi questo sopra e andiamo a ripetere esattamente la stessa costruzione. Questo meccanismo farà sì di togliere dalla nostra testa quando verrà lanciato, guarda, ok, togliere questo blocco e ci permetterebbe di andare in alto. Ora andiamo a riprodurre la stessa cosa per un paio di piani. Allora facciamolo un po' più velocemente, quindi 1, 2 e vetro, poi di qua 1, 2, 1 e 2. Nuovamente andiamo in alto 1, 2, 1, 2 e 1 a fianco. Pistone appiccicoso, blocco di gelatina, saliamo su di 1 e blocco, pistone appiccicoso rivolto verso l'alto. Andiamo a collegare il meccanismo, torcia di vetra rossa, polvere di vetra rossa fino in alto, qua sopra. Il blocco si estende, andiamo a mettere i blocchi di ossidiana ai lati, questo lo distruggiamo, questo in basso lo posizioniamo e andiamo a ripetere esattamente la stessa cosa. Facciamo nuovamente di qua, 1, 2, poi vetro, 1, 2, 1, 2, andiamo in alto, 1, 2, 1, 2, così. Poi dove è? Pistone appiccicoso, gelatina, in basso ci portiamo questo blocco per appoggiare il nostro pistone appiccicoso. A questo punto nuovamente in basso, qui andiamo a portare la nostra polvere di vetra rossa vicino al pistone che si estende, nuovamente blocco temporaneo, 1, 2, 3 e quello in basso, questo lo possiamo distruggere. A questo punto possiamo andare ulteriormente in alto, ma noi ci fermiamo, quindi faremo un piano di meno rispetto alla costruzione che abbiamo alle nostre spalle. Andiamo col passaggio successivo. Allora, per adesso l'unico punto in cui ci sospinge qualcosa verso l'alto è questo. Noi adesso dobbiamo andare a ricreare la stessa situazione con questi blocchi celesti di calcestruzzo affinché ogni piano ci sospinga verso l'alto. Ok? Ovviamente l'ultimo piano non ci deve sospingere verso l'alto, quindi l'ultimo piano, questa costruzione che andremo a fare, non bisogna ripeterla. Cosa ci serve? Calcestruzzo azzurro, polvere di vetra rossa, ripetitore di vetra rossa. Molto semplicemente, esattamente all'altezza di questo punto, ok? Facciamo 1, poi 2 e 3 e mi raccomando questi blocchi toglieteli, altrimenti se riporta giù il blocco di gelatina. Poi facciamo così 1, 2 e 3 e andiamo ad unire il tutto. 1, 2, 3, 4, 5 e ripetitore. 1, 1, 2 e 3. Ok? Quindi questa è la sequenza. Andiamo a ripeterla soltanto per il piano superiore perché l'ultimo è l'ultimo piano. Quindi 1, 2, 3. Mi raccomando, distruggete la diagonale, almeno sicuramente questo della diagonale, ok? Poi scendiamo ulteriormente 1, dove 1, 2 e 3 andiamo ad unirli. Polvere di vetra rossa 1, 2, 3, 4, 5 e ripetitore 1, 1, 2 e 3. Ora se abbiamo fatto tutto bene, questi blocchi dovrebbero mandare in altro il nostro giocatore, ok? Questo ovviamente non serve perché siamo all'ultimo piano. Step successivo. Allora, i due meccanismi, uno, quello blu ci porta in alto e quello giallo ci toglie dalla testa il blocco, altrimenti ci potremmo, anzi, sicuramente ci sbatteremo la testa, quindi ci toglie questo blocco in alto. Ora ci serve il meccanismo che ci porta in basso, che ci faccia cadere, ok, dolcemente. Prendiamo un pulsante di pietra, un blocco di pietra in questo caso, polvere di vetra rossa, vetro, pistone appiccicoso e calcestruzzo lime, ma soltanto per riconoscere la tipologia di percorso, questo non c'entra, è un rimasuglio. Allora, da dove cominciamo? Sicuramente dal blocco di vetro, che dobbiamo piazzare esattamente all'altezza di questo pistone. Blocco di vetro e due blocchi di calcestruzzo lime, uno e due. Poi mettiamo temporaneamente un blocco di calcestruzzo lime in quella posizione, gli appoggiamo un pistone appiccicoso e poi nuovamente il blocco. Questo lo togliamo, andiamo a collegare il tutto, uno, due, tre. Ora il blocco di pietra levigata lo metto esattamente al fianco dell'ossidiana, il pulsante di vetro, in modo tale da attivare il tutto. Ok? Sta funzionando. Andiamo a rivedere la stessa cosa per ogni piano. Quindi blocco di vetro, uno, due, tre. Poi il pistone appiccicoso, nuovamente il blocco di calcestruzzo. Questo blocco di calcestruzzo, ovviamente, quando viene sospinto dal pistone, va a interrompere questo circuito. Questo lo togliamo e facciamo uno, due, tre. Poi qui ci mettiamo il blocco di pietra e il pulsante. Dovrebbe essere rimasto l'ultimo piano, dov'è il pistone? Quindi vetro. Poi calcestruzzo, calcestruzzo, calcestruzzo temporaneo. Pistone appiccicoso e nuovamente calcestruzzo. Questo lo togliamo. Andiamo a collegare il tutto. E poi pietra levigata. E infine il nostro pulsante. Ora non ci resta che scendere in basso e testare il nostro ascensore multipiano. Quindi dirigiamoci verso il nostro ascensore. Sono in modalità sopravvivenza. Andiamo a testarlo. Proviamo la salita. Ok. Lanciati adeguatamente in alto. Ancora in alto. Dovremmo adesso essere arrivati all'ultimo piano. In effetti è esattamente così. Ora testiamo la discesa. Sta funzionando. Il mio invito è quello di agganciarvi comunque al nostro server Discord. Perché così mi farete vedere come avete utilizzato questo ascensore multipiano che in tanti mi avete chiesto. E soprattutto come lo avete adornato. Questa costruzione può essere facilmente nascosta. Io in questo caso ho fatto molto velocemente questo tipo di approccio. Mandate sul server Discord nel canale Galleria Creazione le vostre costruzioni di questo ascensore multipiano. Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link per scaricare l'avventura della mappa Minecraft ambientata nella città di Venezia. Trovi anche l'invito per agganciarti al nostro server Discord. Stiamo ultimando il server Minecraft attraverso il quale avvieremo contest di costruzione e giveaway. Come quelli che realizzo per le scuole italiane. Quindi scarica la mappa e fammi sapere cosa ne pensi. E poi iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale. Qualcuno ha cominciato anche a caricare le proprie creazioni che come vedi condivido con piacere. Detto questo commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto. Infine dai un'occhiata a queste playlist che ti suggerisco mentre saluto Cesare Elia, Diego DJ ed Umbi7777 da YouTube, El, Edoardo l'amico di Lorigar25 dal canale Discord che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento. Ciao! 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 Ciao!